Se siete tra quelle persone che verso metà marzo, di solito, si accorgono che l'estate è alle porte e cercano di correre a ripari con diete drastiche e sessioni di allenamento da schiavisti con risultati nulla di buono, tanto meno per la salute, beh, potete evitare tutto ciò. Arrivando alla sospirata alla carne, già in uno stato di relax, in forma, giocando d'anticipo, sì, avete capito bene. Per voi donne, ma anche uomini, ho creato lo speciale Prova Consume. Particolari pacchetti composti da linfodrenante addorbe più linfodrenante arco inferiore o anticellulite drenate, oppure multitrattamento orto-bruco-glute, con sconti dal 15 al 20%, quindi da una a oltre due ore di coccole e rilasso, per arrivare rilassati in perfetta forma alle strade. Ciò è possibile perché linfodrenante metodo-vote, con movimenti intelligenti, quasi una caresta, elimina i problemi di gonfiore e retenzione integrale, fa espellere le tossine, migliora il microcirculo, innalza le difese immunitarie, attenua il dolore, fa riassorbire le chinosi da interventi chirurgici, rilassa. Il massaggio anticellulite drenante, che è un total body, attua un riscaldamento della muscolatura, stimola la circolazione sanguigna, mobilizza i depositi adiposi sottomutani, elimina le scorie, rilassa tutto il cuore, donna benessere il siglo fisico. Il covito, versione prosto e multitrattamento otto gruppo muta, è un massaggio al viso anti-age, che produce un effetto lifting naturale, visibile sin dal primo trattamento. Dona elasticità, tonicità e luminosità alla pelle, riattiva la circolazione sanguigna della pelle, favorisce l'ossigenazione, eliminando l'aspetto spento e le tossine, stimola la produzione di elastine con l'asene, sostanze indispensabili per la giovenezza e l'elasticità della pelle, accelera il ricambio cellulare, riduce le macchie, rende la mente calma, come l'acqua di un lago in un giorno senza vento. Il suo sconto, era ed è dare benessere, vigore, armonie e piedi, per mantenere inalterata nel tempo la propria energia di l'inferenza. Ovviamente, trovi anche i cufanetti con la crema cellulite o le emulsioni idratanti corpo o in tanti. Quest'estate, fatti ammirare per la tua forma fisica e per un aspetto rilassato. eccezionalmente, solo per lo speciale prova costumbre, ci saranno anche i pacchetti da pietre. e ci saranno anche i pacchetti. ovvio i pacchetti macchia ricamze